Processi più sereni per le vittime di violenza, stanze protette con collegamenti audio e video per le audizioni di minori, di chi ha subito violenza per dare maggiore serenità ai soggetti interessati e la funzione delle tre sale di ascolto protetto allestite presso il Tribunale di Salerno a sostegno di minori, donne e fasce deboli in genere, vittime di reati come abusi, violenza e altro. Sono state inaugurate questa mattina al terzo piano della Torre C Alfredo De Marsico della Cittadella Giudiziaria grazie alle associazioni Soroptimist, Lions Club e Innerwill che hanno offerto un contributo per la realizzazione di queste strutture e che sono sempre al fianco delle persone più deboli. La prima realizzata nella città di Salerno alla Caserma dei Carabinieri per il Tribunale di Salerno, quelle di oggi sono le prime stanze che garantiranno audizioni protette riuscendo a procedere con gli interrogatori senza trovarsi faccia a faccia con il proprio Aguzzino subendo un'ulteriore soggezione in aula. Stamani la cerimonia inaugurale che di fatto rende attive le tre stanze alla presenza del Presidente del Tribunale di Salerno, Giuseppe Ciampa e delle rappresentanti delle associazioni che hanno reso possibile l'inaugurazione delle tre stanze per audizioni protette. È importante perché finalmente abbiamo realizzato queste aule protette, è stato un percorso lungo e in questo percorso in qualche misura abbiamo dovuto attivare il Ministero. Comunque da sei mesi, grazie anche alla collaborazione di queste associazioni che hanno scopi filantropici, abbiamo arredato anche per i bambini le aule interne mettendoli a loro agio perché il problema centrale è quello dell'accoglienza per evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria. Quindi oggi per noi siamo contenti che da sei mesi a questa parte, sette mesi a questa parte, non dobbiamo recarci più lontano e possiamo gestire all'interno del palazzo queste situazioni che consentono di avere una prova quanto più genuina possibile e questo giova l'avvocatura, giova la persona offesa e giova la giustizia nel suo complesso.